Serviranno 200.000 euro per ripulire la statua imbrattata dagli attivisti di ultima generazione. Questa notizia ha fatto il giro dei social, soprattutto perché sarà il comune a dover sborsare questi soldi. Non voglio parlare di etica, morale, né dare le colpe, voglio solo parlare di filosofia, che è quello che mi riesce meglio. Sul sito di ultima generazione leggiamo che il loro obiettivo è quello di fare atti di disobbedienza civile non violenta. Facciamo un passo indietro. Che cos'è la disobbedienza civile non violenta? Prima di Martin Luther King, prima di Gandhi, è Thoreau che parla di disobbedienza civile non violenta. Nel 1846 Thoreau viene arrestato perché si rifiutava di pagare la full tax, cioè una tassa che veniva imposta a tutti i cittadini con il diritto di voto. Lui si rifiutava di pagarla perché secondo lui i soldi di questa tassa andavano a sostegno di cause che lui non condivideva assolutamente, ossia la schiavitù e la guerra in Messico. Thoreau viene arrestato, esce dal carcere e scrive la disobbedienza civile. Che cos'era disobbedienza civile? La disobbedienza civile significa non collaborare con un governo rispetto al quale non si condividono le scelte, assumendosi però pienamente le responsabilità di ciò a cui abbiamo disobbedito. Thoreau non paga le tasse, quindi va in galera. Se la disobbedienza civile di Thoreau ha una radice che è soprattutto quella di non collaborazione, successivamente, a partire dagli anni 20 del 900, soprattutto con Gandhi, si diffonde la non violenza, che invece promuove proprio l'idea di fare degli atti per mostrare il fatto di non essere d'accordo con determinate decisioni del governo. Alla radice della disobbedienza civile però c'è un concetto filosofico profondissimo, ossia quello di prendersi le proprie responsabilità nei confronti della legge, anche se non la si condivide.